Ci troviamo a Valencia, una bellissima città ubicata in territorio iberico, dove è ubicata la penisola iberica? È ubicata vicino a noi, infatti sto parlando della Spagna, Spagna uguale Iberia, quindi penisola iberica. Dove pensate un poliziotto sarebbe stato inchiudato alle telecamere perché avrebbe schiaffeggiato una donna in mezzo alla strada? Un episodio che sarebbe stato filmato attraverso l'uso di uno smartphone da parte di un passante che, dopo un controllo di tempo notturno nelle vie della città spagnola, ha deciso di inchiodare l'uomo e creare il video in questione. Le indagini stanno andando avanti e ci si vuole rendere conto del perché l'uomo avrebbe schiaffeggiato la donna proprio nel cuore di Valencia per strada, una bellissima città ubicata in Spagna, quindi parliamo della penisola iberica. Grazie a tutti per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e iscrivetevi al prossimo video. Grazie a tutti.